chi è questa bellezza ciao posso vivere con voi certo abbiamo anche preparato i documenti per l'adozione wow abbracciamoci che facciamo adesso voglio diventare come voi vi prego allora che possiamo fare guarda qua per diventare come cat nappai pilati come i miei sì è meglio occuparsi della manicure oh sì è vero ehi non graffiare i mobili gatto cattivo ti ho comprato un tiragraffi scusa cara me ne ero dimenticato ma è così noioso il divano è più interessante tu sei noioso allora piccola fammi vedere oh cielo dobbiamo rimediare subito wow come nuove grazie mamma ti voglio bene continuiamo renderemo le tue mani perfette sta avvenendo benissimo wow è fantastico ce l'abbiamo fatta vuoi provare wow sono perfette mia che bello sono felice che ti piacciono cara guarda che ho ricevuto wow sono biglietti per digital circus finalmente ci andremo tesoro torniamo subito sbrigatevi finché avete ancora un divano oggi mi stai viziando siamo tornati ti siamo mancati al cibo quello ops non ho pulito bene caro sei così disordinato guarda ora sono pulito wow sembra ahem ho fatto scusate a proposito ci mancavano giusto le scarpe penso che possiamo rimediare dobbiamo solo impegnarci e voilà le zampe sono pronte tesoro ti staranno benissimo wow grazie calde e morbide sono meravigliose grazie oh fatti da parte è un po pesante la mia schiena caro stai bene lascia che ti massaggi che bella sensazione ho la pelle d'oca spero che ora tu ti senta meglio sì è ancora qui la mia uniforme scolastica credo ti starà benissimo provala wow grazie mamma wow si adatta perfettamente forte è davvero meravigliosa ti sta benissimo guarda sembri proprio tua madre vi voglio bene entrambe e noi vogliamo bene a te oh la schiena oh i biglietti per l'acquario bene sbrighiamoci guarda quanti pesci wow qui si potrebbe davvero mangiare a sazietà io ho fame anch'io caro dove vai vado a pescare ne ho quasi preso uno preso oh come faccio a respirare aiuto tieni duro ci penso io oh no che dice questo la serratura si apre con i like ragazzi aiutatemi a far uscire catnap per favore altrimenti annegherà con i tuoi like ci aiuterai a tirarlo fuori oh tieni duro fatto oh è stato pericoloso grazie ragazzi siete i miei eroi bene e ora si va a casa è stato divertente sembra che la bambina si sia addormentata guarda quel soffice angioletto che tesoro facciamo silenzio non la svegliamo ce l'abbiamo quasi fatta scusa caro non volevo ci siamo dimenticati della coda abbiamo bisogno di un palloncino uno lungo questo andrà bene e se scoppia va bene fatto non è perfetta penso che questo colore sarà più adatto penso possa andare bene non direi però potrebbe funzionare dobbiamo collegare tutto da l'on penso mi serviranno entrambe le code visto ce l'ho fatta caro che c'è che non va è tutto pronto buongiorno svegliati amore abbiamo preparato una cosa per te spero ti vada bene grazie mamma la coda è davvero fantastica è così lunga sono felice che ti piaccia caro ti prenderò non potrai scappare basta scherzare non sei più un bambino oh guarda caro la luna crescente sei sicuramente nostra figlia wow che figata ti prenderò aspetta dove vai oh tu attento sei così divertente papà è stato molto divertente giochiamo a nascondino ci nasconderemo per primi arrivo ma dove sono andate le troverò forse sono dietro al divano o all'armadio non potrete nascondervi da me inizierò a cercarle più tardi finalmente nessuno potrà punirmi graffierò il divano il più a lungo possibile oh sì che meraviglia è tempo di esperimenti vediamo che succede posso versare per terra il latte nessuno mi dirà niente ci siamo ora gliela faccio vedere io che divertimento è il giorno più bello di sempre oh catnap l'hai voluto tu ma che succede questo no devo scappare se pulisco tutto in fretta forse non si arrabbierà con me che casino che ho fatto oh beh questo no lui è il mio nemico giurato però posso usare la scopa dovrò pulire in fretta sembra che ce l'abbia fatta sono così stanco wow hai pulito tutto non c'è neanche un granello di polvere ottimo lavoro continua gioca ancora uno due tre sto venendo a cercarti ma dove sono ah ah ecco la piccolina presa cosa ma dove è andata non capisco non può scappare di nuovo nessuno sembra mi stiano prendendo in giro ecco fatto ora ti prenderà di sicuro non potrai scappare va bene mi arrendo non arrabbiarti devo solo trovare la bambina dove è finita ho cercato dappertutto e che c'è qui cara aiutami l'aspirapolvere caro sta venendo da noi siamo troppo giovani prendi questo oh no i miei genitori sono in pericolo devo fare qualcosa sono vicina sei la nostra eroina e tu brutto aspirapolvere ora te ne andrai per sempre si prendi questo tesoro è con distintivo per il salvataggio grazie mamma sono così felice la nostra bambina è cresciuta che figo guarda un'altra bambina ha bisogno di noi tu sei la prossima papà svegliati c'è un mostro saluta casa tua no smettila e perché fai questo ora lo scoprirai oh cabin che è successo alla casa non lo so oh no sei stata tu no è stato catnap cosa è stato lui devi andartene papà aspetta tesoro è tutta colpa di catnap ciao ciao e ragazza non preoccuparti mi occuperò di te no questo no oh mamma aiuto saluta mamma mia ciao ciao a tutti e ora vieni andiamo siamo arrivati ma dove sono benvenuta nella mia tana e ora ti mangerà no per favore hai ragione mettiamo un po di sale cosa ma dove ha finito il sale ho bisogno di un posto in cui nascondermi spero solo che non mi trovi non vedo nulla dove è andata quella bambina forse è qui e ora controlliamo prendi questo e ancora e ancora che sta succedendo devo dare un'occhiata povero pollo e adesso che faccio cosa abbiamo qui wow un tuorlo d'uovo devo aspettare il momento giusto sembra sia scaduto oh no penso di essere fortunata spero solo che non se ne accorga mi sento meglio devo filmare tutto questo cosa è stata presa ora non potrai scappare guarda piccolo paparazzo non funzionerà e adesso che posso fare una palla vuoi giocare prendila l'ho presa è così carina ci è mancato poco pronto papà sbrigati a venire sono già lì ehi ma che succede guarda oh è strano c'è qualcosa che non va Kevin oh piccola basta con le bugie guarda ecco un cappellino per te credo che sia ora che tu te ne vada Kevin e noi ne parliamo dopo ora basta ti prego non farmi del male oh papà scusa ho dimenticato le chiavi oh eccole qui oh no un mostro si cringe avanti più veloce seguimi andiamo è una faccenda seria ascoltami Gabriel è sei fuori di testa ok allora spiegami da dove viene questa roba avanti Gabriel adora i gatti lo sai non è vero e te lo dimostrerò la mia mano fa male ti sei fatto male ok andiamo devi farti vedere da un medico no non c'è tempo per questo ho detto di andare lasciami stare sta bene Anica fammi uscire da qui dovrò farlo io stesso dimostrerò che non ho mentito devo solo aspettare wow eccolo lì mia 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 semplicemente perfetto fatto chi è stato oh ti ho preso perfetto è ora di annappiare i fiori ciao cara oh sei già a casa devo nascondere la coda non farlo ecco fatto guarda qua Anica avanti gli ho fatto una foto oh scusa che succede ti ho detto che era catnap no non capisco di cosa tu stia parlando è pazzo Kevin siamo stanchi di te ma come Gabriel perdente come ti permetti stai lontano vattene così bagnato o più veloce ti raggiungerò aspettate un attimo sono di nuovo qui questo no e adesso che faccio ho veramente paura devo nascondermi è in fretta ci deve essere qualcosa per proteggermi questo non va bene e neanche questo oh un massaggiatore lo stavo giusto cercando ma non è il momento giusto un aspirapolvere oh è così polverosa questo potrebbe funzionare forza questo lo fermerà sicuramente e ora dobbiamo solo aspettare ecco fatto di sicuro cadrà nella mia trappola è qui ehi lo so che sei qui di addio alla tua vita cosa ma come ha fatto a farlo di nuovo stai attento ti prendo è così divertente l'importante è che tu stia al sicuro nessuno ti prenderà funziona alla grande ma che succede sono già stanco ehi ha funzionato e chi è il perdente ora ha ha preso e ora verrai con me ha ha anica anica guarda qua cosa è andata al negozio davvero la mia testa Kevin ma che diavolo come hai fatto a tornare qui avanti vieni oh un biscotto è così intelligente amore mio ho un'idea che ne dici di questo gattino baffuto come osi rovinare la mia foto oh oh lasciami andare e ora troverò la bambina è ora di finirla lei dovrebbe essere qui ehi vuoi giocare ehi ma che succede adoro sparare ai bersagli soprattutto se sono i tuoi giocattoli cominciamo non credo che gli piacerà questo no devo salvarli lo sta già facendo trovata ora non potrei più scappare oh cos'è questo ecco come facevi a muoverti mi arrendo mi arrendo cosa ok ma dove sei andata devo andarmene in fretta non vi lascerò venite con me non posso crederci era proprio qui eccoti trovata non potrai prendermi e adesso che facciamo torniamo subito al rifugio ti piace giocare a nascondino piccola nasconditi da questo sono così spaventata io ho tanto sonno wow aspetta piccola non addormentarti siamo in pericolo avanti svegliati oh e tu chi sei ci sentirà ora lo distraggo io ehi catnap vuoi giocare con me mi ha notato devo nascondermi penso di essere al sicuro forse se n'è andato ho tanto sonno eccomi poppy starà bene papà salvami dove sono? è solo un ritratto che strano gatto ah prendi questo ma che cos'era? non va bene è la sua testa? che orrore pensavo fosse vivo ma come è possibile? stai lontano da me ti prego sono ancora così giovane questo no lasciami andare non riesco a respirare ok ora ne ho abbastanza stupida testa di nuovo prendi questo grazie racchetta ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto il mio ginocchio mi fa male devo stare attento sembra che si eliminerà da solo dove è il nostro piccolo ospite? qui? no forse qui oh no dov'è andata? ti troverò oh no pensavo che non sarebbe tornato spero solo che non mi trovi che devo fare che devo fare è così spazioso? non facciamoci trovare me la vedrò io con lui penso che se ne sia accorto ciao oh no è gas non mi sento tanto bene tutta qui? vorrei poter raggiungere l'arma lo affronterai facilmente ho capito prendilo un birillo? no serve un'altra arma ok ora te la do un pollo? no ok ora basta c'è qualcosa che non va? ma che state facendo? ho chiesto un'arma perché non la vedi? oh avresti dovuto dirmelo continuiamo avanti con piacere allora questa prendila kissy una palla ma stai scherzando? una palla ora ti prendo cosa? ha funzionato ci è mancato poco cut up oh no ok ti lascio stare ottimo lavoro tesoro uh uh kissy torna qui non così in fretta oh no spero che non se ne accorga bene bene credo di aver sentito qualcosa non preoccuparti tesoro l'aiuto sta arrivando mi prendi in giro? non fai paura non funziona così ma che vuol dire? allora rifacciamolo ti distruggo non funziona così so che non sei aggie guarda avanti cosa? ma come hai fatto? ops non sono riuscito a distrarti buona giornata e bla 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 ma perché? ciao ciao mi ha smascherato il piano è fallito e adesso che faccio? è da tanto che ci provo oh no che è successo? mi ho sconfitto che piegno colore ok ho qualcosa per te l'ho preparato io stessa accendiamola fantastico avrà bisogno anche di questo ma che cos'è? questa è l'arma perfetta quella è per me che bello non vedo l'ora di provarla wow ora sarò invincibile puoi anche giocare a Patty Cake ora sono pronto Catnap attento ma ricordati devi fare attenzione al gas ho capito grazie mamma bene bene e dov'è Catnap? ora dovrà avere molta paura di me attiriamo la sua attenzione e poi mi occuperà di lui sorpresa allontanati non potrai vincere questo lo vedremo il tuo gas non funziona con me oh questo segno credo di sapere cosa fare non può essere vero ti sta bene aggiungiamo qualcos'altro no questo no aiuto ti piace? ecco Catnap il gioco è finito non mi prenderai perdente basta così sei stato solo fortunato prendimi se ci riesci questo è scandaloso devo dargli una lezione torna qui ma dov'è andato? che bello è caduto in trappola ma dove sono tutti? wow che cos'è questo? forte un tiragraffi oh che bello è così bello ha funzionato è la nostra occasione non muoverti ora tocca a me attenzione lasciami andare non se ne parla occupati di lui in fretta o te la sei cercata un pugno da mille palme lo terrò io fermati basta così vi dimostrerò chi comanda che male e tu sei la prossima mamma oh no ti piace? non ti lascerò andare devo occuparmi della ragazza scommetto che non è andata lontano tempo di caccia spero solo che daddy stia bene dove sei piccola? devo fare qualcosa ho un'idea topo vieni qui ora sarà peggio per te che snap avanti vai spero funzioni cos'è? un topo? vieni qui ti prenderò non è nemmeno così spaventoso chissà se gioca con il laser una luce che carina vieni qui ehi ma dove stai andando? sciocco non potrai scappare vieni qui aspetta un attimo eccoti è ora di andare basta aiuto stai scappando da troppo tempo ma ora ti ho presa lasciami non farlo è troppo tardi di addio alla vista piccola come farò a liberarmi? ha funzionato ti piace questo? no non vale di nuovo è divertente cosa? di nuovo oh bene ma che cos'era? ok finalmente ti mangerò che delizia ora non ho più fame che mascalzone ridammi subito mia figlia conto fino a tre o te ne pentirai quindi ci hai tornato prendi questo spigato te la sei cercata ma cosa hai fatto? te ne pentirai lasciami andare la mia faccia oh ehi chi è stato? oh ma che sta succedendo? questo no per favore non farlo fermati per favore oh ora devo correre oppure lo affronto cos'è questo? non è il mio? buona fortuna ecco dov'eri ladra che mascazzona ragazzona non potrai scappare nessuno può nascondersi dal mio fumo oh non mi sento tanto bene oh dove sono? aspetta per favore fammi uscire non cercare di convincermi non posso stare qui oh no rimarrai qui finché non diventerai proprio come me oh no che incubo che incubo siediti e stai zitta ladra ehi quello cos'è? ti ho detto di stare zitta mi chiedo cosa sia un manuale su come diventare catnap wow ora potrà di sicuro uscire ma io voglio una versione ghiacciata oh è così morbido mi piace e questo cos'è? meo oh fa le fusa è un'ocrobata l'hai visto? i catnap prova questo cosa? prendi wow è un massaggiatore proviamolo oh sono in paradiso sono contenta oh indosso ancora le mie vecchie scarpe devo rimediare hai bisogno del mio aiuto? usa la magia grazie per il consiglio non è ancora quello che mi serve spero possa risolvere il problema ora rimuoviamo l'eccesso e voilà ehi che c'è che non va? tempo di pulizia esci forza signorina sono libera vieni con me questo è il posto giusto quando tornerò tutto dovrà brillare e non pensare neanche di scappare questo è per essere sicuri ora puoi iniziare ciao ciao forse stava scherzando dovrò pulire per un sacco di tempo come si può ridurre una stanza in questo stato? oh allora è questo che puzza così tanto sembra che non abbia troppa scelta oh è difficile oh un album di foto wow che carino che bel gattino no non posso ah che carino ehi posso usare questo? sì lo terrò per tempi migliori grande ma stai scherzando? ti ho detto di pulire torna in gabbia ciao ciao ora siediti sei stato così carino beh è ora di uscire con quello che ho trovato un attimo pensi di essere una principessa togliti quella corona oh 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 e adesso che posso indossare? vediamo ma certo un piacco di neve sapevo mi saresti tornato utile è ora di mettersi al lavoro avanti con queste forbici oh adorabile adesso che aggiungo? alza forse questo ti aiuterà brillantini prendili grazie Olaf mi hai aiutato tantissimo vediamo che succede adesso wow incredibile che bella ehi tu è arrivato il momento di divertirsi un po' che ne dici di un giochino non lo voglio oh beh che c'è di tanto difficile lanci la palla e il premio è la tua corona oh sono d'accordo grande allora prendi sì se miro all'ipotenusa dell'angolo dovrei farcela puntiamo e wow oops ehi ma non è giusto ha 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 provati ancora una volta stavolta la colpirò di sicuro ehi catnap guarda cosa la prenderò ce l'ha quasi fatta sapevo che avrebbe funzionato e ora è il momento di prendersi la corona oh oh ha vinto impossibile ha imbrogliato oh oh è tornato ah ah ehi ridammi la corona ok la prenderò da sola wow ancora meglio di prima che figata oh sì possiamo cancellare un altro punto e passare ai guanti che bello potrei usarli ma questo cos'è non ti piace dovrei sopportarlo ha 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 forza ghiacciolina seguimi muoviti esamina tutti i giocattoli e fai in fretta ok ho capito allora sbrigati ho cose più importanti da fare che carino tu andrai nello scaffale e a te invece tocca questo posto chi è rimasto wow ciao gemellini volete una barzelletta un giorno due draghi entrano in un bar uno dice che fa caldo e il secondo dice non sputare fuoco su di me cosa che stupidaggine è ora di tornare ehi dimentica la libertà ciao ciao non ce la faccio più oh perché mi prude così tanto oh piccolo calzino nemmeno tu puoi aiutarmi avanti oh hola sono un mago e uno stregone cosa wow che belle zampe nessun problema fantastico miu miu eccovi qui ora non potrete più nascondervi ultima parola oh oh e adesso che facciamo aiuto il capitano batti è qui niente panico oh omicidio in piano giorno sei stata tu e ora faremo una foto per l'identificazione adoro le ossa non scapperete ora siete delle sospettate bene 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 ve l'avevo detto che l'avrei presa è meglio che mi occupi di lei prima che sia tardi vediamo se ti piacerà il gioco è finito cat on up oh oh ora devo solo aspettare prenderò il posto migliore ops è da un po' che non affilo i miei artigli vieni qui se affilo solo un artiglio non succederà niente di male oh che bello ehi ma che cos'è sembra sia bloccato è arrivata la tua ora di addio alla vita cat on up miau oh no dovrò fare tutto da solo ma chi è stato oh no oh oppi ciao sta succedendo qualcosa di strano è ora di smetterla aspetta un attimo un appato ricordo sorridi sei venuto bene devo andare ciao perché sono così disfortunato ah gente ho paura chi potrà mai essere scopriamolo guarda ciao wow non l'avevo mai visto prima ehi lasciami andare posso giocare anch'io una bomba oh ci sono giochiamo perché sta succedendo a me sei ancora qui ehi aspetta un attimo un telefono cat on up dammi quel telefono ma me lo ridarai vero ah quanto pare guardi un trick oh lo voglio vedere anch'io portami l'osso ok l'ho preso che bell'osso diventiamo amici ecco questa è la mia occasione ti chiamerò aiuto credo che il tuo posto sia questo oh no solo un libro è stato ferito dammelo l'assassino ha usato degli artigli ehi questo cos'è sembra un altro indizio questo è tuo cat on up non credo bene allora è il momento dell'interrogatorio che mi succederà per prima cosa assicuriamoci che non scappi ora tu mi dirai tutto sì e non mentire ora confessa hai ucciso Miss Delight oh questo tornerà utile vedo tutto ah 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 divertente ora mi racconterai tutto smettila di fare così mi fai ridere dammelo ah 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 oh chi è? spero che non se ne accorgano ma di chi state parlando? è dietro di lei non dite una parola chiaro? sembra un piccolo cieco oh oh perfetto non muoverti e non ti farai del male bravo coniglietto hai attaccato quello sbagliato non muoverti tu ah scusa ho sbagliato classe oh non volevi attaccarmi? bene sei nei guai amico beccati questo spettacolo carota kung fu tutto qui? basta la vista oppi ah riportami indietro ah 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 ecco quello che ottieni se non mi ascolti te l'avevo detto di non muoverti ma tu non mi hai ascoltato smettila ah ah preso troppo tardi ho un ostaggio ah ah sei in arresto aspetta sto per premere il pulsante per favore non farlo vatti indietro te ne pentirai tra un trick ah 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 no aiuto hoppy 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 tieni duro non riesco a farcela uh pure che a questo terra ferma la gabbia è un'ottima idea ha funzionato cosa? la matita non ce l'ha fatta? e adesso che faccio? lo so scioglierò queste corde resisti hoppy andrà tutto bene oh tesoro stai bene grazie agente lei è la migliore prenditi cura di te tesoro oh e adesso chi è? proprio quello che mi serve perfetto e cento ecco dove si nasconde non muoverti dov'è? ehi oh ciao ciao pommi no mettiamoci al lavoro mia ma che succede qui? va tutto bene? agente betty è al suo servizio uh cut up in guardia siete i miei eroi è il nostro lavoro solo un attimo e io ho rischiato anch'io la vita oh anche tu hai fatto un ottimo lavoro ragazzi volete dei palloncini? ecco qua wow io li voglio ehi anch'io lo voglio mi dispiace ma è tutto forse ne posso gonfiare un altro wow è il mio colore preferito giochiamo non abbiamo tempo per questo ciao pommi noi andiamo chi può essere stato chi ha ucciso The Light? oh quanta attenzione visto che volete tanto conoscermi oh no sorpresa Doug Day oh allora ti sei ricordato buon compleanno facciamo un salto insieme trum tric ahah ho un'idea ehi attenta oh no volevo solo tagliarla godetevela fantastico ecco qua ehi ecco un pezzo per te è così fastidiosa oh no Catunup che ci fai qui? sono io la vera Catunup lei è l'assassina wow due Catunup ma quale Catunup sarà l'assassina? non sono colpevole agente non sono io l'assassino sono confusa dov'è la vera Catunup? oh accidenti oh indovinerò io oh 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 guarda na 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 oh disgustoso oh 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 Doug Day come sempre sì di sicuro a lei amiche per sempre è ora di andare dietro le sbarre allora forza non credo proprio questo no non mi prenderete avanti vieni fuori grazie per l'attenzione wow che bello grazie sono felicissima non tornerai più in auge oh no mi sento male oh 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 mio dio ora basta urlare ehi ma che succede qui? agente la nostra collega è svenuta e guardi quella spada shh questa detective si occuperà del caso cosa abbiamo qui? molto sospetto sei stato tu? è meglio se vado dove pensi di andare? primo avvertimento nessuno lascerà la scena del crimine finché non scoprirò chi ha ucciso Pommy risolverò questo caso i primi sospettati sono Kane e Ragata ok dobbiamo circondare la scena del crimine con del nastro drum trick oh wow mi sta spaventando ok bene il primo indizio è il corpo di Ragata facciamo attenzione pronti fatto avete visto? molto sospetto molto sospetto e se il prossimo per chi era questa? questo è interessante di chi è questa pelliccia? di sicuro è una prova non sai di chi è? Ragata forse è la tua? ti tengo d'occhio oh sono tornata ah ah lo sapevo oh no io sono appena tornata dalle vacanze fammi dare un'occhiata è falso? ovviamente no non ti credo ok Jack è ora di rispondere a qualche domanda e la valigia viene con noi stai ferma ti tengo d'occhio ah ah ha un coltello ah ah lo sapevo no no volevo solo fare uno spuntino sì questo lo direi davanti al giudice ora sei una delle sospettate ok e ridammi quella carota adesso mi direi tutto e sarà una lunga chiacchierata ma che razza distanza è questa? wow forse la tua valigia ci dirà di più che abbiamo qui? un'arma lo sapevo dovrò aprirla ah ah ho capito tutto è questa l'arma del delitto uh ma di cosa stai parlando? è un pelaverture guarda visto? ora puoi mangiarla siamo in un piccolo cieco aspetta un secondo questa carota è così gustosa è l'occhio di ragata guarda fantastico un'altra prova il caso si sta complicando ok Jax forse mi sono sbagliata sembra che non sia stata tu devo scoprire di più su ragata ehi dove sono? sto per interrogarti ed è meglio che tu collabori abbiamo trovato il tuo occhio uh e dov'è? per favore ridammelo smettila di toccarmi credo di averlo trovato grazie mille lo cercavo da tanto tempo che schifo ma come ho fatto? l'ho cucito ora va molto meglio ehi ciao agente ora smettila ho bisogno di risposte beh vediamo forse posso fare qualcosa tipo questo wow ti piace? è davvero per me è così bello grazie lascia che ti abbracci perché non diventiamo migliori amiche non sei certo stata tu posso andare agente? ma certo ciao ciao è così carina devo controllare sta solo dormendo mi sono spaventata aspetta cosa ha la tv che non fa? raga fa? oh no non lui Kane ti prego svegliati non è il momento migliore per dormire siamo in pericolo sta venendo a prenderci Kane oh ho un'idea questo dovrebbe aiutare chi soffre il solletico finalmente ehi non parlo mai più guarda oh oh sembra che abbiamo grossi problemi l'importante è non fare mosse all'improvviso ho un'idea questo dovrebbe rallentarci me ne occuperò io tu e ora prendi questo è stato facile guarda questo straccio non è più tanto spaventoso oh un attimo è Kavmo il mio migliore amico ops che figura mi ha incastrato ragata io che pensavo che fossimo amiche mi dispiace è stato un incidente è la fine della nostra amicizia che cos'è? eh? posso spiegare? è proprio quello che farai forza muoviti ehi calma non ho fatto niente di male ah ora lo scopriremo dilli oh mettila guarda cosa ha trovato è tu? sarebbe un peccato se oh mi è caduto sarebbe un peccato danneggiare i tuoi poveri denti non vuoi che questo accada vero? per favore non i miei denti allora confessa agente eh esolo che cosa? corriamo ehi non mi parai del male vero? ti prego non farlo ma che è stato? sono scappata per un pelo dove stai andando? non ti lasceremo andare ehi che state facendo? non ne avete il diritto abbiamo un'altra sospettata e sei tu ma non sono stata io dovrai dimostrarlo ti tireremo fuori la verità la verità non fatelo lascia che me ne occupio sei in un grosso guai dietro di voi certo come no chi è? oh no sei in grossi guai e adesso che facciamo? per favore slegatemi fate in fretta forza corriamo seguimi c'è mancato combatteremo combatteremo dobbiamo prepararci ora si che è nei guai cerca di entrare per un trick il gioco è finito siete tutte pronte? allora andiamo facciamogli vedere chi comanda scusate meglio se lo facciamo nel retro che è in? pensavo di essermi già occupato di lui forse non è bastato ehi amico cosa? è solo uno scheletro che strano ah ah beccato non potrai scappare through un trick clazzo ehi l'ho preso vieni qui e ora scopriremo che si nasconde sotto la maschera finalmente cosa? è un cavallo? è molto strano basta scherzi fred oh no ora siamo nei guai togliamogli la testa ehi freddy dov'è andato? oh no oh oh dov'è? oh oh tu verrai con me ehi è qui dobbiamo scappare oh no è di nuovo lui devo riprendermi non sono mai stata qui visitatori interessante le dimostrerò la mia ospitalità freddy per favore calpati beccata lasciami in pace è una trappola cosa? di nuovo? beh no un millepiedi odio i millepiedi basta non avvicinarti mai più di soppiatto sai quello che ti farò? ecco prendi questo oh oh bene ora sembri più amichevole mi piace che ne pensi? sei carino aiuto oh è scappata? beh non c'è problema ne lascerò un dessert e proverò la mia nuova arma devo controllare la bottiglia ehi sei qui? ehi che strano è così stupido vogliamo via trum tric wow ma che succede? non riesco a tenere che c'è che non va in questo mattello? toccami avanti oh devo andare ma non così oh l'ho trovata ti stai divertendo? ok giochiamo un po' è un incubo ha trasformato tutti in bambole aspetta un attimo so come distrarlo gli orsi amano il miele no? ma non sanno assolutamente come aprirlo soprattutto se c'è della colla ok questo dovrebbe ritardarlo un po' prendilo che cos'è? un regalo? io adoro il miele è così stretto ehi aprimi è la mia occasione spero solo che non se ne accorga bommi vieni con me non aver paura piccola ti salverò oh davvero questa sì che è una sorpresa aspetta qualcuno mi ha mandato un sms cosa? girati è ora di fare i conti attenzione ce l'ho fatta a malapena una tv fantastico ora potrò rilassarmi in fondo me lo merito è rotto? o non ci sono canali? c'è qualcuno? ehi che ci fai di qui? stai bene? che incubo sembrava davvero un brutto sogno sto venendo a prenderti no ne ho abbastanza vuoi giocare a nascondino? sfida accettata ce n'è andata ha sbagliato strada questo posto sta diventando pericoloso wow è il set di Gabi ora è tuo vuoi provarlo? vorrei davvero provarlo più degli occhi sono certa che sarai bellissima aggiungiamo un po' di eyeliner sembri già molto più carina che bello non ho ancora finito ora il naso perfetto ancora qualche dettaglio sarà la mia piccola copia un po' di pazienza ecco guardati che bello vi piace il mio trucco? io lo adoro il primo punto è stato completato non lascerò che le cose vadano così stupidi animatronics non sapete con chi avete a che fare lascia solo che ti prenda Freddy saluterai la tua testa ecco qua sono troppo emozionato mi devo calmare manca poco alla fine del turno finalmente basta con questa uniforme voglio solo il comfort che c'è di meglio che un caffè appena fatto e ora giochiamo è di nuovo lui è meglio che lo spenga oh ho un'idea se avessi un intero arsenale Freddy non mi farebbe paura sarebbe fantastico se fosse un albero ho bisogno di qualcosa di più serio oh sì ho trovato quello che cercavo ti conviene implorare pietà Freddy sto venendo a prenderti ehi svegliati ragazzi come faccio a svegliare Freddy Freddy darmi profondamente non mi sente cosa? ehi Freddy e sì oh non vedo nulla dove sono? ah ah eccoti il gioco è finito Freddy cos'è? oh 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 ora non potrai più scappare oh tu sei la prossima drum trick dove sono? oh devo scappare ehi non si paga? che brutto momento dai un altro colpetto avanti mettete un like oh che devo fare adesso? posso trovare il cappello? chica ma dov'è? ci sono ecco prendilo ehi levamelo è troppo grande penso che dovresti crescerci dentro aspetta so cosa fare drum trick aiuto il cappello mi sta risucchiando cos'è? lasciami andare mi fai male oh è qualcosa di pesante perché proprio io ho capito ma come? lasciami andare morde l'ho scampata per un pelo devo stare più attento si fanno strani incontri da queste parti che succede? hai toccato il suo cappello non colpirmi che strano oh è tutto a posto penso che tu abbia bisogno di un cappello tesoro che ne dici piccola provalo grazie non c'è di che che ne pensate? assomiglio già a Freddy questo cappello è perfetto possiamo cancellarlo dalla lista avrò l'uniforme più bella di tutte oh sì ora tutti sapranno che sono un eroe la migliore guardia giurata dell'anno ehi me la presti? allontanati da me ok ora lasciami che stai facendo? ecco qua non c'è bisogno di tutte queste mossette grazie per la macchina Freddy ha rovinato la mia uniforme da eroe te ne pentirai è proprio quello che ci serviva una macchina da cucire dove l'hai presa? ora possiamo iniziare a fare il vestito bene volevo farlo io ho tutti i materiali necessari cucciamo l'imbottitura in poliestere e tessuto sembra perfetto penso che la bambina la adorerà ehi vuoi provarlo? è bellissimo perfetto siediti io e te siamo come due pisellini in un baccello ti adoro ora ci servono solo i guanti ma dove possiamo trovarli? oh ottimo materiale tanto Freddy dorme che stai facendo? vattene ma io volevo aiutare la bambina altrimenti come avrei fatto a fare i guanti? non usando i miei piedi non arrabbiarti ehi potrebbe funzionare cosa? stai parlando del mio portachiavi? certo devo stare attento possiamo iniziare il processo di trasformazione dammelo dovrebbe funzionare trum trum trick fantastico è meglio di quanto immaginassi pronto? evviva prendi qua sei così generoso grazie ma quello chica ma cosa hai fatto? sistemerà tutto io un po' di pazienza forza ti senti meglio ora? il mio corpo grazie che stai facendo? abbiamo bisogno di te ti abbiamo fatto dei guanti wow ora ho le zampe perfezionerò la danza dei robot ma cosa sta ascoltando? ehi chica voglio sentire anch'io oh forse non dovresti Freddy non hai delle cuffie più grandi? queste non mi stanno dovrò togliermi la testa oh a proposito di orecchie la bambina avrebbe bisogno di un paio di orecchie dove sono le mie cuffie? come farò a sentire la musica ora? piche no? oh piccola devi provarle wow wow ora sono un vero orso ora farò vedere a quella guardia che tutti devono aver paura di me proprio come di Freddy batti il 5 è l'ora della rivincita Gabrielle aspetta non pare niente di stupido ti ricordi chi comanda qui? non ho bisogno del tuo aiuto non sei più la migliore guardia mi prenderò io il tuo titolo è chiaro? e ora abbattene grazie a tutti grazie a tutti